presento in gara una una canzone che inverno dei fiori che è una canzone nata con la volontà di raccontare come se avessi voluto fare una dichiarazione d'amore dei tempi moderni no e allora la cosa su cui mi sono interrogato di più sono affascinato dal mondo delle parole la parola che io ho notato essere stata un cardine della nostra vita negli ultimi anni è stata la parola disimparare negli ultimi anni la vita che conoscevamo è scomparsa non c'è stata più e chiaramente rivivere una normalità con queste nuove dinamiche con queste nuove situazioni si ha significato per noi mettersi sul banco di scuola e cercare di capire cosa significasse oggi la parola quotidianità e questo in qualche modo è anche una metafora di quello che io credo si viva un po tutti quanti costantemente non credo sia un fatto unicamente generazionale però proprio la difficoltà che abbiamo di di creare degli intrecci umani di legare la nostra vita alla vita di qualcun altro no di intrecciare le proprie radici con la storia e la vita di qualcun altro e io volevo raccontare questo gesto di empatia questo gesto di ascolto con una canzone e scoprire perché poi è nata veramente in maniera molto informale la canzone perché a un certo punto scopro che esistono i fiori invernali io pensavo che i fiori potessero sbocciare solo col sole della primavera purtroppo non ho una grandissima conoscenza botanica però è nata una canzone da questo perché ho trovato proprio nell'immagine dei fiori che riescono a spezzare la neve e raccontare i loro colori al mondo una grandissima metafora del senso dell'amore no una cosa che mi ha detto sempre alfredo che ho perché uno degli autori della della canzone è stata che in fondo il vero senso dell'amore nasconde già in sé il seme della rinascita e questa è una cosa che io condivido totalmente un gesto di gentilezza può effettivamente creare no un un legame che è l'unica vera cosa che poi ti permette di avere un'aderenza con reale rispetto ai fiori invernali mi permetto di fare una piccola digressione c'è tra l'altro tutta una mitologia incredibile che ho scoperto e che raccoglie che sono storie di protezione storie di gentilezza cioè ad esempio mi viene in mente la storia del calicanto che questo fiore invernale giallo delle sfumature porpora bellissimo molto profumato secondo questa leggenda il calicanto insomma era un albero completamente spoglio in inverno c'era questo pettirosso che girava in cerca di riparo perché aveva freddo allora tutti gli arbusti lo cacciano in malo modo poi arriva il calicanto che gli dice no no vieni ti proteggo io e da questo gesto di gentilezza su questo albero iniziano a cadere una sorta di pioggia di scintille no e da quel momento il calicanto inizia a fiorire anche d'inverno a tirare fuori questi fiori gialli profumatissimi ecco questo per me è un modo per dire quanto effettivamente la gentilezza può essere un seme di rinascita e questo io ho provato a raccontarlo attraverso una canzone anche perché sono uno di quei piccoli sognatori che ancora crede tantissimo nella forza delle parole nella forza delle canzoni le canzoni sono gesti sottili che possono cambiare il mondo e questo io continuo a sostenerlo e se con la mia musica io riesco a raccontare l'urgenza dell'ascolto della comprensione dell'empatia e della gentilezza lo faccio ben volentieri tra l'altro rispetto a questo a questo tipo di percorso che insomma è stato portato avanti con inverno dei fiori io mi sono anche immerso completa prima citavo la squadra tecnica e creativa che no che c'è dietro al tutto inverno dei fiori il mio modo di lavorare nella discografia è un modo che ha molto a che fare con l'artigianalità in qualche senso perché ho lo stesso team di scrittura da sempre e la fortuna che ho che questo team di scrittura sia anche sia anche composto dalle persone della mia vita federica bate che è una delle autrici della canzone insieme a me a che o beccatitti a rage è la mia migliore amica e io continuo a confidare molto nella nella complicità che effettivamente si creano con con l'amicizia quell'impasto mentale che riesce ad avere solo quando tu hai quel tipo di legame e questa cosa torna in una in una canzone io mi sto vivendo questo sarremo come l'opportunità per raccontare i legami umani attraverso la musica e questo per quanto riguarda la parte musicale perché poi insomma anche tutto il risvolto audiovisivo che la canzone sta avendo è supportato da da persone che che lavorano con me da anni che sono qua come a sanremo e che rappresentano la loro professionalità tramite me e allora mi viene in mente il videoclip ecco ad esempio il videoclip è un contenuto audiovisivo che intanto mi vede per la prima volta alla regia continuo a immergermi no sempre di più nella nella creatività e nella nella voglia anche di avere molto poco pudore rispetto alle cose che faccio io purtroppo quando mi sono presentato a sanremo le prime volte avevo così tanto pudore che non riuscivo completamente ad essere me stessa con questo momento probabilmente anche soltanto per un fattore di crescita questa cosa l'ho persa e non ho più paura di farmi vedere per forza in maniera monolitica alle persone allora mi piace anche raccontare che la mia passione la mia creatività può può toccare anche il mondo dell'immagine può toccare anche ad esempio il cinema e così via e in questo senso è la ragione per cui per la prima volta sono alla regia di un mio contenuto audiovisivo insieme a roberto chierici che anche il direttore della fotografia del del video che è uno dei direttori della fotografia più grandi che abbiamo in italia su questo sono onorato di questa collaborazione e con questo video io volevo raccontare con un linguaggio che fosse completamente identitario a partire dalla sceneggiatura fino poi arrivare anche banalmente alla scelta cromatica un modo di vivere la solitudine attraverso le stagioni e lo scambio artistico che avviene in un pubblico perché poi tutto il videoclip è ambientato in un teatro racconta effettivamente il legame floreale che la musica in maniera silenziosa riesce sempre a creare che un contenuto creativo riesce sempre a creare e poi insomma questa metamorfosi finale proprio dei fiori che arrivano che invadono la scena racconta effettivamente una piccola richiesta d'aiuto sentiamo tutti quanti il bisogno di rifiorire in qualche modo e che qualcuno possa fiorire vicino a noi alla fine questa canzone altro non è che una canzone umana che dice la cosa più semplice del mondo cioè spero che qualcuno si sieda vicino a me mi possa dire sai cosa io vicino a te mi sento felice e anche la possibilità di dirlo no a nostra a nostra volta e rispetto per dire al videoclip è stato non a caso qua dietro io mi sono nascosto no per questa cameretta sarremese il l'immaginario di tim barton perché recentemente a settembre mi è capitato di partecipare a una masterclass tenuta da tim barton dove insomma lui raccontava come nasce la sua creatività stato bellissimo anche notare per dire il valore che lui lui dava alla sua squadra allora veniva citato dante ferretti un'eccellenza italiana veniva veniva citato danny elfman e così via tutto il video tutta la parte audiovisiva che accompagna la canzone è estremamente esasperata in questo concetto di un colore primario che diventa così importante all'interno della scena così invadente anche rispetto al al soggetto no che poi c'è nel raccontato no nell'immagine e in tutto questo poi aggiungo anche che adesso citavo danny elfman no che è uno dei compositori che ho più amo da sempre no e che che ha dato no il suono a poi a tutto l'immaginario di tim barton lo cito non a caso perché per me quell'incontro quella masterclass assegnato un punto è stata molto motivo di grande ispirazione per me perché anche per dire con la scelta della cover faccio un esempio no e poi parlo anche della cover insieme alla domanda artistica che mi sono fatto che poi proverò a dare una risposta a mio modo sul palco di san remo con l'esibizione di venerdì è stato cosa succederebbe se danny elfman incontrasse battisti questa è stata un po la la rilettura che ho voluto che proverò a dare del capolavoro di mogolle battisti e non a caso io tra l'altro porto questa cover il discorso che mi sono sempre fatto e che purtroppo ogni tanto esce fuori anche adesso quando sono un ascoltatore non un esecutore poi appena mi accorgo dico no è proprio sai quante tante volte si sente dire questa canzone non la può cantare nessuno ecco io credo che dietro una frase del genere ci sia però una sorta di errore semantico no allora si dovrebbe dire questa canzone non la può cantare nessuno come lucio battisti quella è una verità perché lucio battisti la magia che creava tra la sua scrittura la sua interpretazione è chiaramente replicabile però dirla nell'altra maniera significa quasi destinare questa canzone ad un periodo storico e basta no perimetrarla soltanto nel passato quest'anno si aveva la possibilità di celebrare la musica non per forza italiana no si poteva anche andare nel mondo anglofono io però sono cresciuto con la musica d'autore la musica d'autore mi ha proprio nutrito i miei ascolti fin da bambino io dico come si fa di imparare la felicità ecco mogolla ha saputo dire in un modo cristallino raccogliendo proprio quella richiesta che è come può uno scoglio arginare il mare e finisco soltanto aggiungendo una cosa che io in questo sarremo l'opportunità anche di lavorare con uno dei designer più grandi al mondo un'altra eccellenza italiana che fausto puglisi per la maison cavalli che insieme a me insomma hanno saputo ricreare una traduzione sartoriale di della mia musica di inverno dei fiori e questo per me è un motivo di grande onore purtroppo tante volte si ha questa falsa credenza che la moda sia superficiale la moda sono pezzi d'arte da indossare per me un onore prestare il mio corpo la mia esibizione per le opere d'arte che fausto ha disegnato per me dopo aver collaborato con grandi nomi da madonna lady gaga beyonce è veramente un un onore poter rappresentare la maison cavalli tramite le sue creazioni cinema è sempre stata una mia grande passione no prima dicevo dell'ispirazione rispetto a danny elfman e così via però l'ho sempre limitata come passione come esperienza da fare perché pensavo che poi ci fosse una difficoltà a dire lui canta allora può solo cantare invece adesso mi piace pensare alla creatività come una cosa senza perimetro che può diventare tante cose nella maggior parte delle volte nel mio caso si traduce in musica però per me in questo momento è interessante vedere anche di poter entrare nella scrittura di altri no adesso insomma tu citavi monterossi che questa serie di rohan johnson che mi ha dato la possibilità di collaborare insieme a uno dei più grandi attori del cinema italiano che fabrizio ventivoglio quest'anno ci sarà anche in uscita il nuovo film di carolina cavalli con benedetta porlo caroli dove sono protagonista insomma mi sento mi sento in questo momento di voler abbracciare tante cose perché anche entrare nel cinema ti dà modo di entrare in altre teste in altre scritture in altri personaggi e questo lavoro di empatia in realtà poi aiuta estremamente anche la mia scrittura musicale e quindi mi piace mi piace continuare poi insomma spero spero di essere convincente io ce la metto tutta è una cosa che voglio tenere molto viva non voglio più farmi paranoia e sommettere perimetri alla creatività